allora ci concentriamo sull'immagine della piccola lente vediamo che la piccola lente ha gli impulsi di luce della connessione con il dispositivo fisico questo si visualizza così quindi vediamo la piccola lente nel nostro pensiero e vediamo che questa piccola lente emette la luce la luce va all'espositivo fisico lo copre quindi lo illumina quindi copre tutte le tre lenti edo entra anche dentro quindi penetra e un certo punto dopo torna di nuovo nella piccola lente che abbiamo nella percezione quindi vediamo questo legame di luce della lente nel nostro pensiero con il dispositivo fisico e vediamo che la lente nel nostro pensiero è collegata al dispositivo fisico vediamo che è legata anche la struttura della vita eterna con la quale anche il dispositivo è collegato e vediamo che la piccola lente ha le stesse caratteristiche esattamente le stesse caratteristiche come la lente piccola diciamo così fisica dell'espositivo fisico e vediamo che queste strutture delle leggi fondamentali hanno già assicurato la vita eterna a tutti i in tutti i tempi e in corpi fisici e mesi svegliamo stiamo già un po c'è fondamentale abbradovani e stocchi che nascevo la spriati e nero e stocchi nasceva già messi l'inia nasce da esce e rinani e se vissi né poi buono poproso poi buono ci la via e quindi così vediamo che qua da questo punto possiamo ottenere l'educazione fondamentale proprio dal punto della nostra percezione per qualsiasi questione per qualsiasi persona anche noi quindi stiamo imparando dal nostro sistema della percezione stesso perché prima li abbiamo fissato questa piccola lente perché questa in realtà è una percezione naturale di una persona eternamente viventi che tutto va diciamo così perché una persona eternamente vivente conosce tutto sa sempre tutto subito la risposta alla domanda ecco e apetta varata sna e tetto cuore mosbedersi mi privi cne essi uscini privi cna merita costa sponi ma da che sosta nel dietro nastro a votno su cari show e questa è una gioia è una sensazione alla quale noi ci siamo abituati però ora quindi però ci ricordiamo di questa sensazione perché in realtà è familiare perché è una sensazione che avevamo nell'infanzia quando tutto sembrava infinitamente favorevole infinitamente felice e bello solo che dobbiamo sempre tenere in mente sempre memorizzare quindi bene che questo stato questo sentimento e il pilotaggio diretto della realtà quindi stiamo controllando la realtà direttamente non solo diciamo così ci godiamo di questo stato e mi fai canziani usciti su nob e canziani e quindi noi in questo valore in questo valore non teniamo e percepiamo l'immagine del pianeta iniziamo a vedere come sul pianeta vengono concentrati proprio tali eventi quindi la luce di quali assicura la vita eterna a tutti e manteniamo sempre questa concentrazione con il livello infinitamente rimoto, quindi teniamo sempre in mente che c'è sempre questo legame a livello che si trova oltre all'infinito perché così il futuro, noi vediamo che il futuro si manifesta sempre nel presente, quindi ci sono queste manifestazioni del futuro. È come se avessimo aperto un passaggio e noi così vediamo la luce che passa, vediamo gli eventi concentrati, proprio gli eventi che assicurano la vita eterna a tutti. Grazie a tutti.